Prima per la russita, eh? No, non so. Pappé, va a chiamare! Ma lo vuoi fare? Non c'è la condanna a tegui, mi chiamare? Pappé, va a chiamare! Non dobbiamo vedere! No, va, basta! Quando fai tutto? No, fermalo! No! Dai! Come ho fatto? Sì, ma non mi ripresce? Come vediamo! Eh? Guardate, guardate! Aspettate! Non me lo vedi, ragazzi! Ah no, finiscilo! Finiscilo, qua questo vediamo! Ma non voglio vedere! Non è! Comunque! Come? È bello? l'ho ripreso smandato e vieni riprendimi il minuto stai finendo peppe tripati oh 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 oh